Oggi la fatica è tanta, è tanta perché bisogna slegare la fascina e mettere un altro corno, il cammino in un altro corno. Oggi è una giornata dedicata ai cornicchi, come li chiamo io, le corna dei coltelli, camminando, camminando, se ne qualcosa si trova, ecco qua, ce n'è parecchi video così e poi li colleghiamo tutti insieme, ok ragazzi? Dai, hai la caria, ok? Ci vediamo.